Io vorrei dire grazie a tutte quelle persone che da venerdì a ieri sera e anche a stamattina hanno reso un tantino più simpatico il luogo che stiamo per inaugurare. Ho visto gente messa a 90 gradi a pulire i pavimenti che erano molto sporchi, anche perché il bianco ci ha fregati, e a rendere un tantino più simpatico l'ambiente. Macchine che andavano e venivano dai vari negozi per venerdì sera e sabato sera trovare tende, anche se stanno un po' di bordello, no? Che vi posso dire? E tante altre storie proprio perché questo luogo oggi poteva essere aperto. Che cosa faremo qua, dato che l'affidamento non perché da noi richiesto, ma perché da altri richiesto gestiremo in questi due mesi, perché dobbiamo essere onesti, questo luogo in modo, come possiamo dire, operativo dovrebbe essere 60 giorni. Queste sono le indicazioni che partono dal Comune. Noi ci auguriamo che duri nel tempo, che si renda sempre più simpatico, ma noi partiamo da questo, c'è stato dato questo tipo di affidamento per 60 giorni. Già c'è un gruppo di operatori, che fanno parte dell'associazione che presiedo, che staranno qui presenti a due a due tutte le notti. Mentre ci sarà un gruppo che insieme a volontari, noi abbiamo una certa conoscenza sul territorio, che cercherà di dire alle persone che non hanno mai voluto essere da noi aiutati, di venire perché c'è un rifugio. Un rifugio dove si può entrare quando si vuole, si può uscire quando si vuole e, tra virgolette, è un rifugio dove noi chiederemo soltanto una cosa, che non si picchi notto. Io ricordo, pensate c'era Don Franco Montenevo, direttore Caritas, che abbiamo presentato al Comune del Tempo un progetto con i costi di un dormitorio pubblico. Dall'esperienza che noi avevamo, avevamo fatto anche questo tipo di studio, ma non è mai andato in porto, tante promesse e niente di concreto. Ora stiamo iniziando da questo. Cosa chiediamo noi? Intanto questo non è un dopolavoro, né andare al bar, perché con tutto il rispetto tanta gente pensa che siccome c'è un servizio di volontaria dove vengono, si fumano una segretta e se ne vanno. C'è che vi buttiamo fuori, se venite con queste idee. Qua può venire gente che si sa sforcare le mani e che non vomita ai puzzi che si sentiranno. Gli altri possono rimanere fuori, dato che lo gestisco io e questo è lo stile che io ho. Io voglio gente che si sa sforcare le mani, perché anch'io, nonostante per ora c'ho qualche accecco di salute, venerdì e sabato mi sono rotto il culetto perché portavo i secchi di acqua per pulire più volte il pavimento. Quindi o ci si sporca le mani oppure si sta fuori. Ce lo siamo scelti, ce lo siamo cercati e lo proviamo così. E allora lavoriamo e collaboriamo perché veramente insieme si possono fare cose belle. È un giorno importante per tutti noi e vorrei dire che Messina ha una bella tradizione di carità. E' come non pensare a Sant'Annibale, alle mezze di Cristo Re di Sant'Antonio che ogni giorno nel silenzio operano. Come non pensare a Santa Maria della Strada e a tante altre realtà. Padre Pati qui accanto a me, Padre Pati rappresenta con l'associazione Santa Maria della Strada un pezzo di storia di questa città e soprattutto della chiesa messinese, della Caritas che è sempre in sinergia e si cerca ecco di lavorare insieme. Io ieri pomeriggio sono venuto qui e ho visto tanta gente all'opera nel cercare di rendere più dignitoso questo luogo che non è certamente uno dei luoghi più dignitosi della città per la faticenza nella quale versa. Ma questo è un inizio, ed è un inizio bello. Su questi muri marroni e bruttini sono stati stampati e disegnati i volti di Martin Luther King e le stanze sono state arredate nel migliore dei modi con l'apporto di tutti. C'è bisogno dei dettagli e i dettagli non sono relativi. I dettagli sono importanti e i dettagli dipendono anche dalla buona volontà di ciascuno di noi. Io spero che dopo tutti questi riflettori e queste belle cineprese, macchine fotografiche, cellulari che sicuramente ci riporteranno domani sui giornali o anche oggi stesso sulle televisioni private poi non si spengano i riflettori ma ci siano tutte quelle belle persone di cui parlava anche il sindaco quelle belle persone che poi la notte saranno qui e che di sera saranno qui insieme a Padre Padio e Santa Maria della Strada a dare il loro apporto allora sì che ci sarà una crescita di civiltà.